Ci stiamo divertendo molto, dai. Il nostro impegno lo stiamo mettendo. Stamattina abbiamo fatto qualche testo atletico e oggi pomeriggio invece finalmente abbiamo toccato un po' di più la palla e ci mancava un pochettino. Noi stiamo mettendo il massimo e speriamo le notizie positive. Siamo un gruppo giovanissimo quindi non c'è differenza d'età, anche i più vecchi sono tutti ragazzetti, tutti ragazzi molto giovani. Non credo ci sia nonnismo, siamo un bel gruppo, ci divertiamo e speriamo di far contento il mister e di fare i ritmi giusti che pretende lui. Siamo arrivati ieri a mezzogiorno e già ci stiamo ambientando molto, anzi ringraziamo per l'ospitalità perché trovare un campo in così perfette condizioni non è facile e stanno mettendo veramente il massimo per farci sentire come a casa. Certo, il mister avendo fatto una carriera da difensore sicuramente ci darà delle dritte molto importanti, per noi siamo 3,99 centrali quindi è molto importante che lui ci dica i movimenti e le soluzioni giuste che pretende. Al momento abbiamo fatto ancora poco dal punto di vista tattico perché è il secondo giorno, prima dobbiamo riprendere il passo che ci manca, è da due mesi che ci stiamo allenando da soli ma è in squadra ovviamente diverso e ora vediamo cosa fare il possibile per mettere in campo quello che il mister pretende. Grazie.